Musica Ben trovati a questo primo appuntamento con il Tg della Comunità di Primiero. In questo numero vi parleremo di edilizia, di cultura e del progetto San Martino Rolle. Ma in apertura il saluto del Presidente della Comunità di Primiero, Cristiano Trotter. Da giugno anche la Comunità di Primiero sarà su TCA TNN nell'ambito della nuova rubrica il Tg delle Comunità di Valle. Anche noi, come tante altre, raggiungeremo i nostri cittadini, il nostro territorio con le informazioni e le notizie su quanto facciamo noi e i soggetti che nel nostro territorio operano. Con questo strumento vogliamo creare un nuovo filo diretto con i nostri cittadini, a distanza breve, ogni due settimane, per informare sempre di più su quanto si sta facendo. Scade il prossimo 23 luglio il bando con procedura aperta per la realizzazione della funicolare San Martino di Castrozza Passorolle. Vediamo i dettagli nel prossimo servizio. Musica I termini del bando per la realizzazione del collegamento tramite funicolare a terra tra San Martino di Castrozza e Passorolle attraverso procedura aperta sono consultabili sul portale dell'Agenzia per i Servizi della Provincia di Trento e sul sito della Comunità del Primiero. La provincia autonoma di Trento, Agenzia per i Servizi, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione per la progettazione esecutiva e i lavori di realizzazione del collegamento con relativo esercizio del servizio di trasporto pubblico per l'antera durata della concessione. Il costo di costruzione è stimato dal progetto preliminare posto a base di gara, inoltre 43 milioni di euro IVA compresa. La giudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le imprese interessate potranno presentare l'offerta all'Agenzia per i Servizi, Ufficio, Gestione, Gare. Il termine di presentazione dell'offerta è fissato per le ore 12 del 23 luglio 2012. La prima seduta in gara è fissata per il giorno 25 luglio. Sono 40 le domande presentate dai residenti a Primiero nell'ambito delle misure anticrisi del settore edilizio. Entro il 29 giugno la seconda riapertura dei termini. Abbiamo fatto il punto con l'assessore competente della comunità di Primiero, Marco Zeni. Sono 40 i residenti in Primiero che hanno presentato richiesta di contributo sul fondo provinciale e misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio per il miglioramento energetico del patrimonio edilizio nel periodo che va dal 1 marzo al 16 aprile. 18 le domande presentate con indicatori ICEF da parte dei singoli cittadini, altrettante da parte di giovani coppie, nubendi o conviventi. 14 da parte dei singoli cittadini senza indicatori ICEF. Nelle graduatorie è stata data a precedenza le domande che ottengono, per quanto riguarda il miglioramento energetico, un punteggio di almeno pari a 60 kWh per m2, presentato, presentati da nuclei familiari composti da almeno tre figli, così come previsto dalle disposizioni provinciali previste dalla delibera provinciale 187 del 2012. Un'istanza pervenuta non può essere invece accolta, in quanto richiedente ha previsto una spesa inferiore alla spesa minima ambissibile para 10.000 euro. In base ai requisiti previsti, sono state così approvate conseguentemente le graduatorie relative alle istanze di contributo presentate nell'ambito degli interventi previsti per il risanamento e risparmio energetico di alloggi in proprietà o che diventerà di proprietà del richiedente. C'è tempo fino al 29 giugno per la seconda apertura dei termini per coloro che hanno completato la domanda entro il primo termine. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all'ufficio tecnico della comunità di Primiero. Per quanto riguarda le domande sul settore edilizio, la comunità si sta occupando in questo momento della raccolta di domande presentate sul piano misure anticongiunturali della provincia. La risposta nella prima finestra di apertura dei termini è stata molto positiva, come ricordato sono le 40 le domande raccolte, di cui 8 presentate da giovani coppie. Questo ci ha permesso di completare quello che era il budget iniziale per cui riusciremo, questo è un aspicio, ad avviare subito l'iter istruttorio per consentire alle persone di avviare il prima possibile i lavori. È chiaro che è una misura che va a favore del settore edilizio, quindi è importante che l'avvio di questo processo sia nel più breve tempo possibile. C'è da ricordare che sono aperti i termini per la seconda finestra, a partire dal 15 maggio e fino al 29 giugno, quindi invito chi ancora ha bisogno di ulteriori informazioni a rivolgersi presso l'ufficio della comunità. Mi pare di sottolineare infine che c'è stata una forte collaborazione anche con i comuni che si sono impegnati ad accelerare l'iter istruttorio per il rilascio delle concessioni edilizie e sottolineerei anche il grande impegno dell'ufficio settore tecnico della comunità che ha collaborato, ha affiancato tutti i cittadini per tutte le informazioni necessarie. La dimostrazione delle 40 domande raccolte è senz'altro un segnale che conferma quanto detto. Ricordo che anche nella nostra zona l'economia, soprattutto il settore edilizio, soffre di questa crisi perdurante. Questa misura va nella direzione di rilanciare il settore, dare nuove opportunità alle aziende e si auspica a superare questo momento di difficoltà economica. Via Libera al progetto Casa Piazza diventerà il cuore pulsante della rete, della storia e della memoria di Primiero. Abbiamo sentito l'assessore alla cultura della comunità di Primiero, Marco Toffoli. L'edificio denominato Casa Piazza, situato a Pieve nel comune di Transacqua, fu privata abitazione fino all'anno 2005 quando venne acquistato dal comune di Transacqua in considerazione del suo valore storico-artistico. Il progetto di restauro che farà di Casa Piazza, la sede della rete della storia e della memoria, prevede che l'edificio si presti a diverse funzioni. Vi sarà un'intera area riservata alla conservazione degli archivi, un'area preposta alla consultazione dei documenti e allo studio, un'area dedicata ai laboratori storico-restaurativi, un'area infine espositiva che accoglierà sia mostre temporanee che esposizioni permanenti. Il portale vuole soprattutto porsi come punto di riferimento di raccordi e di consulenza per tutti coloro che conducono ricerche o si interessano a temi legati alla storia del territorio. Nel 2010 il comune ha concesso l'edificio alla comunità del Primiero con l'esplicito intento di destinarlo a portale della rete della storia e della memoria. Nel 2012 infine un architetto è stato incaricato dalla comunità di realizzare un progetto di restauro di Casa Piazza che dovrà essere affiancato da un lavoro della ricerca archivistica condotta da una cooperativa di ricercatori sulla storia dell'edificio, delle sue funzioni e della nobile famiglia che lo possedeva. Il pregio di Casa Piazza, sottoposta a vincoli da parte della soprintendenza per i beni architettonici della provincia di Trento, è legato anche alla sua collocazione, ossia da una parte la centralità rispetto all'abitato di Pieve, dall'altra la prossimità ad importanti edifici monumentali quali la chiesa di Santa Maria Assunta, la chiesa di San Martino e il Palazzo delle Miniere. Nel febbraio 2008 la Fondazione Museo Storico del Trentino ha proposto ai suoi soci fondatori, tra cui la comunità del Primiero, la costituzione di una rete di portali della storia e della memoria, una rete del carattere non gerarchico in cui diversi attori coinvolti possono farci corare progetti ed esperienze, riflessioni e dibattiti. La comunità di Primiero ha dato il via nei mesi passati in accordo con le soprintendenze dei beni architettonici della provincia autonoma di Trento alla fage progettuale per la ristrutturazione di Casa Piazza, un edificio architettonico importante situato nel centro storico di Pieve, il centro storico della valle di Primiero, che è stato acquisito nel 2005 dal comune di Transacqua e concesso, incomodato alla comunità di Primiero, per la realizzazione del portale della storia della memoria di Primiero. Da questo punto di vista la comunità si è posta come capofila della fage progettuale innanzitutto e poi sarà capofila della fage realizzativa delle opere di restauro e di ristrutturazione dell'edificio nel quale avrà sede proprio il fulco principale del portale della storia della memoria di Primiero. Qui verranno raccolte i nostri documenti storici, i documenti storici della nostra comunità, quelli che hanno fatto la comunità nel corso del Medioevo, nel corso degli anni successivi. Sarà un edificio caratterizzato da una ristrutturazione molto leggera che lascerà inalterate le parti strutturali più importanti, che non andrà a intaccare il tessuto dell'edificio che è molto particolare ed è molto delicato e sarà una ristrutturazione che permetterà un utilizzo dedicato soprattutto alla conservazione della nostra documentazione in maniera molto al passo con i tempi, molto digitalizzata, molto al passo con le tecnologie, con le ultime tecnologie, per cui sarà un centro di studio e di ricerca in cui ciascuno potrà ritrovare le radici stesse della nostra identità comunitaria. Questo per dare la possibilità innanzitutto di raccogliere i fondi documentali che la storia di Primiero ha lasciato nel corso dei secoli, di studiarli, di catalogarli e poi naturalmente di renderli disponibili, di renderli alla portata di tutti, di lasciare, di permettere a tutti di potervi accedere con comodità. Grazie!